La pulizia dell'auto è una delle attività più importanti per mantenerla in buone condizioni e farla durare più a lungo. Tuttavia, a volte può essere difficile pulire le parti più piccole e difficili da raggiungere. Ecco perché l'ultimo trucco di pulizia dell'auto che sta impazzando sui social media è così utile. L'influencer Melissa Metrano ha condiviso sui social un semplice trucco per pulire le aree più difficili dell'interno dell'auto utilizzando un oggetto che tutti hanno già in casa. I cotton fioc In un video su TikTok, Melissa spiega come i cotton fiocsiano perfetti per pulire i pasticci e raggiungere i piccoli angoli. Inoltre, Melissa ha anche sottolineato come i cotton fiocsiano utili per pulire le impronte di zampi degli animali domestici sul console centrale dell'auto. Inoltre, Melissa ha anche sottolineato come i cotton fiocsiano utili per pulire le impronte di zampi degli animali domestici sul console centrale dell'auto. Questo trucco è perfetto per coloro che hanno animali domestici che viaggiano spesso con loro in auto. Questa tecnica di pulizia è molto facile da utilizzare, basta prendere un cotton fiocche. Questo trucco è perfetto per coloro che hanno animali domestici che viaggiano spesso con loro in auto. Questa tecnica di pulizia è molto facile da utilizzare. È incredibile come un oggetto così semplice e poco costoso possa fare la differenza della pulizia dell'auto. Inoltre, il costo basso dei cotton fiocche li rende un'opzione conveniente rispetto ai prodotti specializzati per la pulizia. Ma non è solo l'uso dei cotton fiocche e rende la pulizia dell'auto facile ed efficace. Ci sono anche altri trucchi che puoi utilizzare per mantenere la tua auto sempre pulita e splendente. Ad esempio, puoi utilizzare un detergente specifico per auto e una spugna o un panno in microfibra per lavare. È importante asciugare l'auto dopo il lavaggio per evitare la formazione di macchie d'acqua sulla vernice. Inoltre, puoi utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere lo sporco e la polvere dai sedili e dai tappeti. In questo modo, puoi mantenere l'auto pulita e fresca anche se hai animali domestici o bambini che possono sporcare. In generale, la pulizia dell'auto non deve essere un compito difficile e costoso. Utilizzando piccoli trucchi come l'uso dei cotton fiocche, puoi mantenere la tua auto sempre pulita e splendente senza dover spendere una fortuna.